Buongiorno, un altro video speso a Eurospino, speso in tutto 49,50. Vi presento dei fusilli freschi, ho preso tre pacchi da mezzo chilo, sono buonissimi, reggono molto la cottura delle zucchine perché andrò a farle in bianco con il parmigiano, detersivo per i piatti Dexal, l'ho provato anche l'ammorbidente ed è profumatissimo, i tre tranci di pizza che ho preso l'altra volta, però ho preso stavolta margherita, un cassettino di mandarini senza semi, molto dolci, ve li consiglio, una bella pagnotta di pane con dei panini perché oggi devo fare con i panini delle polpette, spezzatino di pollo, molto buono, poi ho preso sempre dei spezzatini di carne perché in famiglia a me chi mangia pollo e chi mangia carne, del macinato misto che andrò a fare delle polpette e dei bocconcini di pollo, un bel cavolo per fare pasticcavolfiori, delle meredine similkind del pingui, anche queste molto buone, minestone leggerizza e pisellini, è sempre buono tenerli nel congelatore questi prodotti, uova fresche con scadenza 28 dicembre, insalata mista tipo poker, croissant al cioccolato, però non sono pieni molto dentro, però posso sempre spalmarli con la nutella, ma il sapore è buono, marionese, fagioli cannellini, e una bottiglia di spirito alcol, mi era finito e quindi ne ho sempre un po' in casa, fette biscottate, della pasta trafilata al bronzo tipo nocchietti sardi e dei fusili per il sugo, biscotti secchi tipo granetta, anche questi molto buoni, li avevamo già presi altre volte, del pan grattato in vaschetta con tappo salfa freschezza e del tè classico, poi ho preso un sacchettino di patate rosse, perché mi piacciono quelle rosse, e un sacchettino di mele, queste sono già preconfezionate, anche il sacchettino di mele era in offerta, proprio così come lo vedete chiuso.